Ah, non parla di Aliano, questa persona però non la usiamo troppo perché non sappiamo se appunto è stato ferito durante il crollo, guardate, c'è una parete là completamente, una sorta di torretta che sembra completamente, impazialmente, insomma, distrutte comunque la parte di quella che appare essere una chiesa con delle visioni abbastanza significative. E vediamo persone che continuano a venire via dal paese.